Sì, oggi è una giornata particolare che preoccupa perché si festeggia una caduta del fascismo ma che pare che si stia rialzando, alzi la voce, alzi il dramma di cosa vuol dire fascismo alza perché sta fomentando l'odio, i rapporti vengono di fatto sgretolati, si indicano i nemici così uguali, identici come era nato, quindi la giornata di oggi serve proprio per ricordare che dobbiamo stare attenti, dobbiamo avere gli occhi aperti, valutare, riconsiderare e riflettere su quello che sta avvenendo, non è un gran bel periodo. Non dovremmo riconoscerci un po' nella vita di tutti i giorni? Certo, questo è anche proprio per far venire fuori, oggi è partecipata, c'è molta gente di diverse estrazioni, ma anche colori politici, sono queste le cose che occorre fare, bisogna ricordare, bisogna continuare non solo qui ma sul territorio, nel territorio dove si abita, dove si vive, credo che facciam bene a tutti proprio anche l'incontrarci, il vederci e il parlare di questa situazione, mi sembra che stiamo al di sopra. Ma è l'unica arma che ci rimane. Ce ne saranno altre ma che vanno scoperte, non sono immediatamente visibili. Grazie Roberto.